Ciao ragazzi sono Spiegelamutato e benvenuto a un nuovo video su questo mio canale Come vedete siamo su Dead Space, questa è la quinta puntata, credo Siamo in questo punto, dovremmo fermi l'altra volta Dove siamo arrivati l'altra volta? Ehm, dove devo andare innanzitutto? Sì, devo andare là Ehm, credo che questo sia vivo No, credo proprio di no Ah, ok, stiamo tornando indietro Io non ho preso termite, però, boh Spero di non dovremmo tornare indietro Aspettate, c'è un modo per vedere gli obiettivi, a parte... ah, qui c'è No Ah, aspettate Ehm, come si può fare? Come priest... ah, naviga in via, tab e esci Ehm... Aspettate, devo vedere una cosa aiuti, comandi Opzioni Ehm, comandi Sensibilità, rig Allora, cursore a destra, va bene Inventario, mappa, ecco, missione, tre Ok Ah, tre 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 Ah, trova la termite Ok Ah, ok, perfetto L'ho presa, tra virgolette Questa cosa sarebbe? Negozio Qualcosa l'ho trovata... oddio Qualcosa l'ho trovata, no? Soldi... cos'erano? Crediti Vediamo se posso comprare qualcosa, tipo lanciafiamme Sarebbe una figata assurda Eh, schiama lanciafiamme Sì Allora, vediamo un po' quanto costa il lanciafiamme Nooo Nooo Eh, non ce la farei né coi crediti Credo neanche col livello Se va a livello Però posso comprare altra roba, vediamo un po' Allora, ah, mad pack Credo che lo comprerò Adesso vediamo Bombola... ah, sì Compro il mad pack Anzi, ne compro due Che servono sempre Ok, dai Allora, andiamo avanti Apriti Oh, che cazzo Sento rumori strani Dai Perché non si apre? Ok Andiamo avanti Girare a sinistra Ah, ok Allora, è un labirinto Oh, merda Perché diventa tutto buio? Che cazzo Allora sta succedendo Ehi Ma è morto? What the fuck? Lol Eh, tutto normale Ma sì, sbattiamoci la testa al muro senza senso Oh fuck, che cazzo è? Andare qui Usa l'arma cinetica Sugli oggetti pesanti Che riportano questo simbolo Ah, no L'arma cinetica Come si usava l'arma cinetica? Eh, zetta? C? No, ci è Eh, ok Aspettate un attimo Sì, ok Una memoria Molto, molto Come dire Eh, comandi base Credo Credo Slottarmi su Giù No, vabbè No Modalità di mira Beh, in effetti potrò pensarci Eh, fuoco Secondario Modulo Modulo C Sì O è quello Oh fuck Ho sbagliato Oh, per sbaglio Ho sbagliato tasto Non so come spiegarlo Non so neanche dove lo stiamo andando Sinceramente Ok Ah, dovevamo semplicemente passare Oh fuck Oh, porcaiva E va Inger, eh E va Inger Ti piace Va Inger? Che cazzo Porca c'è la puttanaccia Staccati Maledi Maledi figli di troia Oh fuck Oh fuck Oh fuck C'è un altro C'è un altro C'è un altro Ma quanto cazzo Ci vuole per ucciderli Altro? No Tu? Sei il defibrillatore che mi serve? Oh fuck Ho già capito Dove lo devo portare? Oh fuck Lo devo infilare qui Dove ho messo bene Blocco Ah ah era per accendere questo Ok Saliamo su Dove devo andare What? Ah, ok Che rumoroso questo Saliscendi Allora Andiamo avanti Oh fuck E ora? Ah ah No Ah ah Sei mobile Ah ho capito È quello di prima Oh fuck Mamma mia Quanto sono magico Che cazzo È sto rumore Da dove arriva? Mori Mori bastardo No Carica Carica Porca Tana Che cazzo sto facendo? Sì Sì Carica questa merda E mori bastardo Oh fuck Uno di questi giorni Mi verranno infarto Nel senso Prendiamo Ok Mad pack Ricarichiamo l'arma Non abbiamo recolto niente Per l'altra arma Sì Certo che sì Quanti ne abbiamo? Quattro Neanche male Dai Questa roba cos'è? Ah ah Molto interesting Abbiamo un ricarica di stasi Deve essere C'è qualche porta rotta Chissà perché si rompono Sempre quando devo passare io E in più Sì Innanzitutto possiamo Possiamo portare questa roba qui Perfetto Thanks Scusa ho sbagliato tasto Andiamo avanti Eh no Però uso l'altra arma Che forse è meglio Boom Eh che ne dici? Perché mi chiede Questo modo Se voglio aprire la La porta C'è roba che non posso vedere Che non devo vedere Ok What the fuck Ok Ok Dove sono queste postazioni D'ossigeno Bombolaria media Vai Non so neanche dove Devo andare a ricaricarlo Sinceramente Ok Controllo gravità Se non puoi Se non puoi saltare Se non puoi saltare Non puoi saltare Salta 0g Come si salta Porca puttana cos'è Oh fuck Come si salta No Aspettate un attimo Oh fuck Oggi è la puntata Di controllo Dei comandi Fisso Allora Allora Comandi di base Stavolta E abbiamo un Salta Si può saltare In questo gioco Forse devo andare Verso qua Aspetta Come Come razzo si fa Sicuramente non lo so Control Se non puoi saltare Una superficie Ok ci siamo Ah ho capito Dove devo andare esattamente No Che figata assurda Ma questo gioco è bellissimo È Bellissimo Merda Sto morendo Oh fuck 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 Belletto tasto Scusate Olè Allora Credo di dover andare qui Suppongo Su Pino Pino è morto Oddio Mi dispiace tanto A proposito Mi dispiace tantissimo Per Pino e Daniele Davvero Munizio e mutilaggio Olè Ok Dove devo andare Ok Che Ah Questo è il defibrillatore Piastra shock Prendiamo anche qua Una piastra shock Bisogna combinarla con la termite Per distruggire la strada Ok Grazie Per le info Mi arrivano ancora Si spostano attraverso i condotti Stai attento ai Accesso a gravità zero L'ho visto L'ho visto Sei morto spero E quello cosa sarebbe Oh fuck E quello cosa sarebbe Wow Dove lo devo mettere esattamente Nel culo Nell'ano Allora Facciamo così Posso prenderlo Ehm Come si che faceva F E poi saltare No Ma se lo lascio così Salto Che so Dove cazzarola posso saltare Ecco Io salto E poi prendo quello Anche se non so Se mi servirà veramente Lo prendiamo Ce lo portiamo con noi In giro per il mondo In 80 giorni Aha Ho capito dove devo arrivare Andiamo più in là Che possiamo Ok Non ci serviva Vaffanculo Ehm no Scusa ho sbagliato Tasto Ole What the fuck Ah Avevo un arazzo di gamba Apri Apri Sta cazzo di porta Interessante Ora sono nella merda Perché qua Ho poco ossigeno Sicuramente Beh no In realtà no Oh fuck Che fastidio Ma che figata Nel stesso tempo C'è un silenzio Della madocina Almeno non ci sono Quei mostri Credo proprio Che ci saluteremo Qui Oh fuck Finiamo la puntata Oddio Wow Ora mi da anche L'energia Giusto Ok Ehm Sì Ci salutiamo qui Perché ho finito Il tempo assolutamente Salviamo la partita Innanzitutto Innanzi di tutto Ehm Andiamo a Capitolo 2 Qui Ok Accetta Perfetto Io sono Spiegano un Dotto Se il video vi è piaciuto Mettete mi piace Iscrivetevi Condividete Vi trovate sempre su Twitter Google Plus O sul mio sito Spiegano un Dotto Punto ML Che sarà ancora offline Sicuramente E niente Io sono Spiegano un Dotto Ciao a tutti Ci vediamo nel prossimo video Di Dead Space Ciao Ciao a tutti